La Formula Classe Junior Italia riparte da Varano e riparte anche dal suo campione in carica Paolo Collivadino pronto a voler difendere il suo titolo conquistato al termine della scorsa stagione non sarà facile visto anche il livello degli avversari però come sempre ce la metterai tutta. Sì, la cosa della quale sono più contento è vedere 20 macchine in pista già al primo appuntamento segno dell'egregio lavoro di Andrea Tosetti come organizzatore e anche la gente ha seguito il consiglio che lo sapevano in televisione tirate fuori le macchine dalle cantine dai box e venite in pista e l'hanno fatto. Comunque quest'anno sì, l'idea è quella di difendere il titolo, c'è una nutrita schiera di avversari aggueriti però vedremo a fine campionato, intanto siamo qua per divertirci. Paolo vediamo un bel numero uno sulla livrea della tua monoposto, hai voluto sottolineare il successo che hai conquistato con tanta determinazione lo scorso anno. Beh sì, correre col numero uno è sempre una bella soddisfazione, poi ho usato una grafica come il nuovo casco di quest'anno, spero che mi porti bene, l'importante è che siamo ancora qua col team Riponi, con i ragazzi, Roberto il mio meccanico per difendere il titolo. Le tue prime sensazioni dopo le prove libere, quali sono gli obiettivi per qualifiche e gara? Ma allora, le sensazioni dopo il primo turno libere non erano buonissime, scivolava tanto la macchina anche perché abbiamo montato le nuove gomme che ci saranno quest'anno, una delle possibilità delle gomme sarà quest'anno. Poi il secondo turno è migliorata molto la macchina, segno che questo tipo di gomma prende bisogno di un po' di giri di rodaggio per entrare in funzione ottimamente, però ti dico, le sensazioni sono buone, insomma, ce la giochiamo come tutte le gare. Allora, grazie a Paolo Collivadino, buon weekend in Bucca Lupo. Grazie Marco, ciao.